Il Redditor, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle per raccontare il reddito di cittadinanza in Campania, attraverserà 12 tappe in tutte le province della regione, insieme ai portavoci del Movimento 5 Stelle in Parlamento e al Consiglio regionale. L'obiettivo è illustrare i contenuti del DL appena approvato al Senato e chiarire ai cittadini tutte le funzioni. Prima tappa a Scampia, nella sede di Officina delle Culture Gelsomina Verde, con il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, le consiglieri regionali Valera Ciarambino e Maria Muscarà, il parroco Anticamorra Donaniello Manganillo e il funzionario tributario Alessandro Romano. Il reddito è una misura di civiltà che, come dicevo, raggiungerà tutte le famiglie che si trovano in difficoltà. Non era una proposta nata solo per il Sud, perché noi per il Sud abbiamo tanti altri progetti. Partono a breve le assunzioni dei nuovi navigator, stiamo collaborando con le regioni, e io mi auguro che da queste arrivi tutta la disponibilità, un pensiero finalmente costruttivo insieme al Governo, perché l'importante è poi avviare, finalmente riavviare questi centri dell'impiego, perché finora abbiamo sprecato soltanto delle risorse, cioè abbiamo dato degli stipendi, abbiamo pagato utenze, abbiamo pagato affitti, senza che però ci fosse una ricaduta sulle persone che cercano lavoro. Noi intendiamo andare un po' in giro in tutte le periferie, in tutta Italia. Scampia è tra quelle più significative, sicuramente, alla quale ridare un po' di ossigeno, sì, è giusto darlo.